Un doveroso tributo non solo per i suoi successi, per la sua partecipazione alle Olimpiadi, per la sua carriera nazionale ed internazionale, ma soprattutto per la straordinaria persona che è stata e l'esempio che continua a essere per tutti noi. Con queste parole l'assessore allo sport del Comune di Potenza Gianmarco Blasi ha presenziato la cerimonia di intitolazione del campo scuola di atletica leggera di macchia romana a Donato Sabia. L'ex mezzafondista e velocista italiano nato a Potenza fu due volte finalista negli 800 metri ai giochi olimpici, vantando la terza miglior posizione italiana di tutti i tempi sugli 800 metri. Medaglia d'oro agli europei indoor di Gotenburg nel 1984, Sabia arrivò quinto ai giochi olimpici di Los Angeles nel 1994, sempre negli 800 metri piani, e settimo a Seul nel 1988 nella stessa disciplina. Fu il primatista mondiale nei 500 metri con il tempo di un minuto e otto decimi, rimasto imbattuto per quasi 29 anni. Allenatore di giovani atleti e presidente della FIDAL Basilicata, Sabia morì di covid l'8 aprile del 2020, ma la città di Potenza e l'intera Basilicata non l'ha mai dimenticato, raccontando anche attraverso quel murales la storia e la vita di un campione non solo sulla pista di atletica. Affrontava la vita con il sorriso, ha affermato il sindaco di Potenza Mario Guarente. Il campo scuola era un po' casa sua e ci è sembrato giusto che quella casa lo ricordasse ai tanti potentini che si allenano lì, a quanti su quella pista gareggiano e all'intera città. Non ci sono davvero parole, è inconmensurabile sapere quanto il suo ricordo, abbiamo sempre detto che è la cosa più importante, ricordare la persona. Forse in vita non si è mai reso conto effettivamente di quanto sia stato significativo per i ragazzi, essenzialmente. Dunque, insomma, spero sia felice dall'assù come lo siamo anche noi davvero tantissimo, orgogliosi, orgogliosi. Grazie a tutti.